L'umanità che pertanto aveva faticato a sopravvivere, che pertanto aveva fatto di tutto pur di non cedere, aveva bisogno di speranza, aveva bisogno degli spartani. O almeno così dovrebbe essere. Oh me! Demone, tua vita è finita! Mi stai prendendo per il culo? E adesso accuccia, fottuto mostro! Bel colpo, Dan. Ma non dimenticarti chi è il miglior cecchino. Oh beh, mi è piaciuto. Ho paura che ti ruberò il posto prima o poi, amico. Parlando d'altro, tutto bene Spartan? Spartan Mary D41, signore. Grazie per il supporto. Questi addestramenti diventano sempre più difficili, non credete? Ma l'evacuazione è parte dell'addestramento? Ci sono voci che dicono che il pianeta verrà vetrificato. Per questo dobbiamo andarcene via da qui. Andrà tutto bene. Loro non ci uccideranno. Siamo Spartan. Ricordi? Ti senti un po' stordito all'inizio, affetti collaterali del criosonno. Tutto sembra un incubo. Quanto durerà ancora? Spartan? Ok, hai detto che dobbiamo arrivare al prossimo checkpoint, è giusto? Allora dobbiamo essere più veloci. Potremmo usare questo M831. Lo usavamo fin da prima dell'imboscata. L'unica cosa è che effettivamente dovremmo ribaltarlo. Forse dovrei guidare io.